macchina che aumenta la velocità scurva e si porta in dirittura allo stacco della macchina dall'esterno Persico M scavalca tutti e si porta in testa Pontidas viene rimontata all'interno da TVR Jet ma poi lo sopravanza probabilmente danneggiandolo Persico M, Piviere, Penelo Pecaf all'esterno numero uno squalificato intanto viene squalificato Piviere Jet e Penelo Pecaf scavalca Persico M e si porta a condurre in maniera molto decisa in terza posizione sempre Pontidas davanti a Perfect Show 38 e primi 400 metri in avanti Penelo Pecaf 20 metri di vantaggio su Persico M e Pontidas dalle retrovie cerca di avanzare Pirouette Starlight nel frattempo 45,2 e primi 600 metri della battistrada Penelo Pecaf Persico M segue a distanza in seconda posizione quindi Pirouette Starlight a largo all'interno Pontidas quindi Pincher Blitz 1,1,7 a metà gara Persico M si fa sotto su Penelo Pecaf all'esterno sempre Pirouette Starlight con in schiena Pincher Blitz alla corda Pontidas 17,3 per il primo chilometro Penelo Pecaf conduce agevolmente Persico M però sembra farsi minaccioso e fa la mezza ruota su Pirouette Starlight Penelo Pecaf Persico M Pirouette Starlight Pontidas Pincher Blitz queste le prime cinque posizioni sul finire della curva allunga Penelo Pecaf e Persico M si porta al suo attacco in terza ruota scatta Pirouette Starlight Penelo Pecaf è preda di Persico M che passa sull'avversaria all'esterno di tutti avanza Pincher Blitz Persico M e Pincher Blitz alle prese Persico M e Pincher Blitz il palo è vicino e Persico M si difende dall'attacco di Pincher Blitz al terzo posto Pontidas quindi Pirouette Starlight 2,3 la media del vincitore 1,16,8 successo di Persico M con Giuseppe Comito alle piazze il numero 6 di Pincher Blitz è il numero 3 di Pontidas quindi l'ordine ufficioso di questa stessa corsa da Siracusa è 7 Persico M 6 Pincher Blitz 3 Pontidas Grazie mille 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 Grazie a tutti.